All'exa, con la griffa raseggiata, parte A di 32, parte B di 32, abbiamo tre tag e poi un finale. Il primo tag è di 16 counts, il secondo tag è di 40, il terzo è di 32, dopodiché abbiamo anche il finale che è composto da un tag regolare più un'aggiunta, che lo vediamo dopo. Iniziamo con la parte A, la parte A è su un muro, quindi partiamo con il destro, kick in avanti, stomp up, flick, stomp up, kick in avanti di destro, kick in avanti di sinistro, flick di destro e stomp up, kick ball point di destro, kick ball point, kick in avanti di sinistro e flick. Gravail a sinistra, A di un grosso, A pro scuff, passo lungo di destro, girandomi di un quarto verso sinistra, quindi stride, slide di sinistro, due facci in cross dietro il destro, girandomi di un quarto verso sinistra, step in avanti di sinistro, scuff destro, step in avanti di destra, scuff sinistro. Vodeville di sinistro, girandomi di un quarto verso sinistra, vodeville, stride, quindi passo lungo di destra, girandomi di un quarto sempre verso sinistra, slide di sinistro, scuff sinistro e scuff destro. Vediamo la parte A con il conteggio. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La parte B. La parte B è sui bionuri. Iniziamo con un out in diagonale a sinistra, out. Giro verso destra, sempre in diagonale, vado in flick di destra, flick. Resto qui e faccio un out, out. Giro in diagonale verso sinistra, flick di sinistra, flick. Due rock back di sinistra, in jump. Rock, recover, rock, recover. Faccio un kick in verso sinistra, di sinistro, kick, hook. Di nuovo, kick sinistro, hook destro. Ora mi giro di mezzo, più o meno di mezzo, che lo dà in diagonale, verso destra, e faccio un kick in avanti di destro, flick di sinistro, kick in avanti di sinistro, flick destro. Qua riparto come l'inizio della B. Quindi, out in diagonale, flick di destra, out in diagonale, flick di sinistro, slow coaster step di sinistro, coaster step, e stop up di destro. Poi in destro, poi in sinistro, flick destro. Stop con le punte rivolte verso il centro, pigeon a destra, pigeon, sweep it a destra, sweep it. Qui la B è finita e ricomincia sul secondo muro. Vediamola con il conteggio. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il primo tag è di 8 counts, scusate, 16 counts. Faccio un out, out, in, in, destro, sinistro, però sono intervallati da delle pause. Quindi, apro destro, pausa, apro sinistro, pausa, torno di destro, pausa, torno di sinistro, pausa. Ora, lo faccio invece senza pause. Quindi, apro destro, apro sinistro, mi giro di mezzo verso destra e step destro, step sinistro. Quando ripeto, apro destro, apro sinistro, giro di mezzo verso destra, step destro, step sinistro. Con il conteggio 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il secondo tag è praticamente questo con un'aggiunta Quindi iniziamo con out, 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 pausa, out, pausa, in, pausa, in, pausa Adesso facciamo out, out con il giro Out, out, giro, out, out, giro Ora facciamo un jazz box di destro in tostrat Quindi tostrat in cross davanti al sinistro Tostrat verso di sinistro Tostrat di destro di fianco al sinistro Qui facciamo un'istrat di sinistro Quindi tacco, scendo E facciamo di nuovo l'out, out con il giro Out, out, giro, step, step Out, out, giro, step, destro, step, sinistro Aggiungo altri 8 count Ricominciando il tag Quindi apro pausa, apro pausa, torno pausa, torno pausa Ok? Quindi il secondo tag con il conteggio 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il terzo tag è quello regolare Ok? È praticamente questo tag Meno gli ultimi 8 counts Quindi facciamolo con il conteggio 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il finale è composto da un tag più un tag tagliato al quale poi si aggiunge un finale Ok? Quindi tutto il finale 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ricomincio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Qui non faccio l'out-out di nuovo col giro Faccio uno strike quindi un passo lungo di destra e diagonale e vado in touching cross di sinistro E qui la coreografia è finita Adesso vediamo con la musica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti